Il Consiglio Comunale ha approvato gli indirizzi organizzativi e le politiche di retribuzione delle partecipate. È comunque una delibera molto importante. Ancora una volta il Comune di Napoli sotto la nostra guida si conferma particolarmente attento nella razionalizzazione della spesa. Siccome noi abbiamo mantenuto in mano pubblica tutti i servizi essenziali, non abbiamo privatizzato e messo sul mercato i servizi essenziali, siamo impegnati a migliorarli sempre, a consolidare il salvataggio. Non abbiamo licenziato nessuno, però è giusto che in un contesto di sacrifici complessivi, l'amministrazione sta facendo sacrifici enormi, i cittadini certe volte stringono i denti perché non sempre i servizi sono eccellenti. Chi ricopre incarichi dirigenziali con l'amministrazione dei magistri si deve dare un segnale che qui la ridistribuzione delle posizioni economiche all'interno dell'azienda non è materia di retorica o di propaganda ma è un fatto concreto. Quindi non ci sono consulenze esterne, ci sono addirittura manager che lo fanno a titolo gratuito come i vertici dell'ABC, ci sono amministratori unici e non consigli di amministrazione, ci sono dirigenti che hanno subito anche una sforbiciata dei loro guadagni. Non è un segno di sfiducia nei confronti dei dirigenti ma è il segno che nei momenti difficili si sta tutti uniti e soprattutto i sacrifici principali non le fanno le persone più deboli e le persone che soffrono maggiormente. Nessun voto contrario in aula ma c'è stata l'astenzione di Forza Italia del Partito Democratico, che lettura dà di questo voto? Evidentemente non sono favorevoli al fatto che ci sia un adeguamento dei livelli retributivi, mi sorprende veramente che non ci sia una condivisione generale, invece ho apprezzato molto soprattutto il voto favorevole del gruppo 5 Stelle. Mi sembra che su questi temi il Consiglio Comunale oggi ha espresso una parola chiara, altri evidentemente hanno pensato di salvaguardare qualche singola posizione e questo la dice lunga anche su quello che magari avviene ogni giorno nel dibattito quotidiano sulla razionalizzazione delle società partecipate. C'è chi dedica a chiacchiere e professa, chi ha indebitato le società partecipate, chi le ha messe sul mercato, chi le ha fatte fallire, noi le abbiamo salvate, non le facciamo fallire, abbiamo salvaguardato tutti i posti lavoro, siamo impegnati a migliorare la qualità dei servizi e cerchiamo di creare un livello eco e razionale dei livelli stipendiali all'interno delle società partecipate. Credo che da questo punto di vista sono decisioni oltre che giuridicamente ineccepibili, politicamente molto avanzate e caratterizzate dal buon senso. Quindi chi si è astenuto evidentemente pecca sotto questi profili.